Il Città di Brindisi, naturalmente, sta pensando al prossimo delicato appuntamento di campionato, la trasferta contro la Battipagliese per la 31esima giornata. Ma l'attenzione di tutti è rivolta anche e soprattutto alla situazione economica, finanziaria e della società. Ieri mattina si sono incontrati a Palazzo Nervegna il presidente Antonio Flora e il sindaco Mimo Consales e l'assessore allo sport Antonio Giunta per fare il punto sulla situazione. Nei giorni scorsi Flora aveva inoltrato un appello agli imprenditori brindisini affinché si avvicinassero in qualche modo alle sorti del calcio brindisino attraverso forme da stabilire. Presa di posizione obiettiva e onesta quella di Antonio Flora anche alla luce delle situazioni debitorie e progresse ricevute in dote dagli ex soci e proprio di questo si è anche parlato nel corso dell'incontro a cui ha partecipato tra l'altro Stefano Casale che è praticamente rimasto in società con la quota del 2%. Ieri Flora ha rilasciato agli organi di stampa dichiarazioni allarmanti sulla situazione economica del calcio brindisino facendo chiaramente intendere che non è disponibile ad accollarsi da solo debiti creati da altri andando anche oltre il proprio budget già messo a disposizione. Ha confermato inoltre che vi sono piccole urgenze immediate come il viaggio, vitto e alloggio per la trasferta di domenica prossima e le prossime per poter concludere in maniera dignitosa una stagione molto travagliata. Pian piano si sta provvedendo a saldare le spettanze arretrate ai giocatori che insieme al tecnico Ciullo hanno già raggiunto accordi col presidente e si sono resi disponibili. In sostanza Flora attende da alcuni imprenditori già contattati delle risposte per la prossima settimana. A tal proposito il direttore generale Enzo Carbonella ha dichiarato che l'amministrazione comunale si attiverà per inviare comunicazioni agli imprenditori brindisini affinché prendano in esame un sostegno al calcio brindisino. Intanto giovedì prossimo 18 aprile alle 10.30 si terrà una conferenza stampa per fare il punto con i tifosi e la città.